Tutto è iniziato da un video su YouTube, se però vogliamo dirla tutta da una serie ne più nello specifico che Murri insieme a Jumpy Tech porta un attimino da un po' sul suo canale Serie dove effettivamente appunto prova e poi approva o meno quelli che sono i gadget virali su TikTok Qualcosa che effettivamente mi incuriosiva troppo e che mi ha portato a dire alla fine E se si prova a dare un'occhiata ai video tech virali e quindi dopo un po' eccoci qua Ho acquistato 5 gadget virali su TikTok, quelli con più like, più visualizzazioni, commenti eccetera eccetera per capire se effettivamente hanno senso o meno e lo faremo proprio insieme Quindi mi raccomando spaccate questo video per altri video del genere perché questa potrebbe diventare una serie Secondo me molto interessante e quindi potrebbe anche poi aumentare di budget ma tutto dipende da voi Io lascio tutto in mano vostra, voi spaccate questo video come sapete, quindi like, condivisioni, iscrizioni eccetera eccetera E potete anche partecipare, vi basta andare su TikTok e taggarmi sotto un video con un gadget virale, strano, tutto quello che vi pare Quindi è tutto nelle vostre mani, magari ci inseriamo, comunque vi inserisco, ci divertiamo un bel po' Detto questo partiamo e partiamo con il primo gadget di oggi Io in questo caso ho fatto una cosa molto semplice, ho scritto gadget Amazon per velocizzarmi un attimino l'arrivo anche dei pacchi E poi ho preso i video un attimino virali, appunto quelli con più like, come vi ho detto, e visualizzazioni E il primo proprio era una top gadget di Amazon e al centro ci andava a mettere un piccolo taglierino Poi sono andato nel link ed era un attimino diverso, però io ero diciamo lì, ho visto diciamo quel video e quindi l'ho comprato ed eccolo qua Devo dire che esteticamente non me lo aspettavo, anche perché costa veramente pochissimo Ma è veramente fatto molto bene, a meno dalla confezione, vi ripeto io non l'ho aperto ma va bene così Mi sembra veramente fatto molto bene ed è secondo me perfetto per un everyday carry Ma detto questo vediamo un po' di specifico e qui diciamo è un attimino sicuro per quanto riguarda il taglio Perché appunto ha una piccola lama che vi permette anche di proteggere un attimino il dito nel momento in cui è andato ad aprire un pacco eccetera eccetera E poi è un gadget tech perché effettivamente per aprire tutti i gadget tech avete bisogno comunque di uno di questi Ci sta, ma ha una feature molto interessante o meglio quella di essere proprio calamitato Quindi magari potete appendere da qualche parte, quindi molto figo, un attimino diverso dal solito Detto questo, questo è il packaging, io l'ho preso in questo colore blu e arancione che tra l'altro sono diventati i colori ufficiali Del brand 99, poi piano piano mi sfegherò ma per sapere più dettagli al riguardo voi potete andare semplicemente sul secondo canale Trovate tutto in descrizione Ma detto questo noi apriamo di questo e andiamo subito a vedere com'è Perfetto, lanciamolo ed eccocelo qui Ma taglia sto coso, a me sembra di plastica Allora un piccolo gancettino, cioè un piccolo fermo, quindi noi facciamo tac e lui si ferma La lama è veramente piccolissima e proprio il prodotto in linea generale è piccolo Come materiali non mi sembra male, però comunque scivola sto coso, non è proprio sicurissimo Cioè se io lo metto così scivola, poi si blocca e ok, ma comunque scivola Se io faccio così ok rientra, quindi questa è la sicurezza di cui parlavano Però va bene, va bene, vediamo se taglia ma soprattutto vediamo se si incolla da qualche parte calamitato Ad essere calamitato è calamitato, vi metto qualche clip Quindi ad essere calamitato è calamitato Però questa cosa che rimane giù così non è che mi piace Per esempio questo, sì non è sicuro se faccio così me lo infilzo e basta Però una volta che lo mantengo giù da questa parte lui comunque mi risulta Ecco se si è sfanculizzato pure questo taglierino qua Vabbè, questo non è sicuro, basta Adesso vediamo se funziona aprendo il secondo pacco e vedendo appunto se effettivamente ha senso o meno Come lo apriamo in questo modo qui Perfetto, no a tagliare taglia, mamma è tagliato proprio come il burro Che lama è? Boh, l'ha tagliata come il burro Allora, diciamo che lo approviamo Almeno questo qui lo approviamo per il momento Ma questa cosa che scappa così non mi piace tantissimo Quindi lo boccio per un everyday carry Ma lo approvo attualmente Poi vediamo andando avanti aprendo i pacchi Per essere un taglierino così piccolo e compatto E con quel rapporto da prezzo Vi lascerò come sempre tutti i link in descrizione Questo gadget qui, e vi lascio il video come sempre di TikTok qui a fianco Arriva da un video di Simone Ciao Simone, ti ho fottuto l'attività del video Però, effettivamente vi lascio Se voi cercate gadget Amazon, questo è il secondo che vi esce E è vero che non è forse quello con più like Scusa Simone Rispetto agli altri Però, appunto, esce sopra e poi è un gadget Comunque era un gadget che volevo provare da tempo Cosa sono? Beh, sono due accessori che vi permettono di pulire Lo schermo dei vostri dispositivi in due secondi Io non mi immaginavo che a questo prezzo ne uscivano due O comunque ve ne davano due Però ci sta uno blu e uno rosso Proviamo quello blu Come funziona? Beh, noi lo apriamo da questa parte In questo modo qui Poi prendiamo un, diciamo, prodotto test In questo caso ci prendiamo il nostro bellissimo iPhone 13 mini E poi spruzziamo in questo modo qua Banged E poi, semplicemente andando a scrollare in questo modo qui Dovrebbe pulirsi tutto Magari un passaggio in più Mamma mia, fighissimo L'ha pulito proprio subito Bellissimo Allora, dopo ci sarà sicuramente qualche clip di contorno Perché non ho ancora un treppiedi a giraffa per far vedere la clip dall'altra Però se io lo sporco Poi faccio così E mi vado a fare giusto un paio di passaggi in questo senso qua Ragazzi, è una figata È pulitissimo Fighissimo Mi piace, mi piace, mi piace Queste sono quelle che mi ingrippano Voi lo sapete Perché a me piace mantenere sempre i prodotti puliti, belli, ordinati E in un precedente video io avevo mostrato un, diciamo, liquido per la pulizia Molto sottile, molto piccolo Ma è difficile da trovare E questo potrebbe essere un'ottima soluzione Quindi questo prendetelo subito Poi costa poco Se non sbaglio 10€ Ve ne danno 2 E quindi top Questo, per esempio, va benissimo per un Everyday Carry Questo lo approviamo subito, proprio al 100% Detto questo, andiamo avanti con un gadget molto, molto figo Anche questo arriva da uno YouTuber, TikToker italiano Se non sbaglio meme official, una cosa del genere Comunque vi lascerò il link del video e anche del, comunque un piccolo esempio qui di fianco Ed è un prodotto, secondo me, molto interessante Che costicchia rispetto agli altri Perché l'ho pagato tipo 35€ Però risulta essere molto interessante Eccolo qui, questo è il pacco Mi piace, è molto bello Esseticamente ci sa E c'è anche il Red Hot Design Award O comunque ha vinto un Red Hot Design Award E che cosa dovrebbe fare? Beh, è un kit per avere praticamente tutte le tipologie di cavi sempre a disposizione Un posto dove sistemare le SIM e le SD Qualcosa per, diciamo, portare sempre uno stand a portata di mano Per vedere video e serie TV, eccetera, eccetera, in giro Un caricatore wireless da 15W E in più anche un lettore proprio SD Quindi lo potete collegare banalmente ad un iPad, ad un Mac E leggere le SD e magari trasferire i vari file Quindi è ricco di possibilità, ricco di funzioni E tra l'altro Da qui ho visto che ha pure una torcia Ma adesso apriamolo con il nostro nuovo taglierino Da questa parte c'è un piccolo coso qua che va tagliato Sotto pure, lo apriamo Allora, lato materiali, niente di che È un plasticotto Ma qui all'interno vedo un bel po' di cose molto interessanti Per esempio, qui dentro c'è per l'appunto un cavo USB-C USB-C Molto carino, bello corto E questo ci piace perché è più comodo quando siete in giro Poi c'è un adattatore USB-C Lightning Poi c'è un adattatore USB-C Micro USB, suppongo, sì Poi c'è una piccola, diciamo, pinzettina per togliere le SIM E poi c'è uno scomparto qui per le nano SIM Quindi per posizionare da questa parte Penso sia un gadget quindi perfetto In viaggio, magari avete una SIM, che ne so, di quel posto La inserite qua dentro e poi quando siete lì la attivate Se io clicco da questa parte c'è la lampadina Come si attiva? Cioè, se io clicco, no? Attivo qualcosa? No, non si attivo proprio niente Secondo me è scarico Da controllare questa cosa, ma va bene E poi abbiamo da questa parte, come si prende? Così, ah, molto easy Un... ecco, ecco Un adattatore USB-C USB, molto carino, molto carino Quindi c'è praticamente tutto ciò di cui effettivamente abbiamo bisogno Da questa parte poi c'è l'entrata USB-C, per l'appunto E ovviamente dall'altra dovremmo avere... eccola qui Da questa parte invece abbiamo l'entrata per le SD Quindi per renderlo in poche parole una specie di hub portatile Poi qui c'è un piccolo, diciamo, scanso Un piccolo coso Che ci dovrebbe permettere in questo modo di rendere questo gadget uno stand Ma reggerà un 13 Pro Max? Tranquillamente Non me l'aspettavo Questo non me l'aspettavo Orizzontale, verticale, lo regge? Pure verticale Fighissimo ragazzi Guardate qua Top Ecco Forse verticale non tantissimo Fatemi vedere Forse dovete posizionare Si apre un po' di più No, questo è il massimo Forse verticale Lo regge ma con più fatica Diciamo che se gli fate fare un movimento in più Vedete che si scansa Invece di così Lo regge proprio tranquillamente Molto molto bene E da questa parte quindi dovrebbe anche ricaricare il dispositivo La cosa che però mi porta a dubbio Ok, così l'ho chiuso E come si attiva la ricarica? Come si accende? È scarico forse? Ma soprattutto dove sta la lampadina? C'è la torcia? Perché questo dovrebbe avere pure una torcia? Se io faccio così Non mi esce praticamente nulla Provo ad aprire Non si attiva Secondo me lo devo caricare Tutto da controllare Magari vi metto una clip dopo Per concludere Ma diciamo che per il prezzo Mi aspettavo qualcosina Un attimino di più Lato design Costruzione Perché si poteva fare qualcosina in più Però è funzionale C'è tante funzioni molto interessanti Quindi molto figo E per chi viaggia potrebbe essere Un'ottima ottima soluzione Sicuramente interessante da avere in borsa Anche perché è piccolo Nel momento in cui voi volete portare poco Avere un po' tutti i cavi Avere anche una possibilità di leggere un po' l'Sd Ma il leggerale lo approvo Facciamo che lo approviamo Poi dopo vi dico Per quanto riguarda la ricarica Eppure Diciamo la torcia Però per il resto ci sta Mi aspettavo qualcosa di più Lato materiali però Perché lo sapete Ci tengo alla costruzione Dei dispositivi E non mi sembra proprio fantastico 32 euro Ho visto Un attimino Di meglio Ma Ma Non è tutto Uno dei video virali Che ho trovato Nelle ricerche Era quello Su questo piccolino Qua Già Guardando un attimino il nome Il packaging Avete capito di che prodotto stiamo parlando Stiamo parlando di un rocket book O meglio Un quaderno Infinito Anche digitale Perché tramite l'applicazione Permette di scannerizzare Praticamente le pagine Averle sullo smartphone Poi condividerle Fare tutto quello che volete O comunque avere Un backup Sullo smartphone Molto figo Ma non sapevo Sono sincero con voi Dell'esistenza Comunque non ricordavo Dell'esistenza di questo mini E questo ragazzi È super acquistato E Io qui vi metto Magari Il video Che ho trovato Con quello grande Quello A5 Ma poi Cercando rocket book Tutti comprano questo qui E voglio vedere Come è fatto Che cosa di bello Di brutto E così via Allora Apriamolo da questa parte Io l'ho preso in una colorazione Ovviamente Siamo in tema No Siamo in tema E vi ho detto I colori del canale L'ho preso In questa bella colorazione Arancione Molto molto bella Tra l'altro È quasi vicino Proprio alla palette colori Proprio Del colore Che ho scelto Qui dentro C'è un piccolo manuale D'uso Ma noi lo conosciamo Molto molto bene Quindi già lo approviamo Vediamo solo come è fatto Poi c'è una piccola pezzettina Ragazzi Se comprate questo coso Tenetevi la pezzettina Perché è una delle cose Più comode E funziona Da Dio Funziona benissimo Per pulire i dispositivi E ovviamente Anche Il piccolino qua Allora Vedo che C'è solo un po' di cose Dentro qua Mi ha sozzato Tutta la scrivania Però Ha un attimino Più pagine Di quello che avevo Anche se ovviamente Sono più piccole Perché appunto Abbiamo un formato Molto più compatto Sicuramente più comodo E perfetto Per un holiday carry Anche qui Oggi sono proprio gadget Per Per Diciamo la sopravvivenza Di tutti i giorni Molto molto carino Questo qua Vediamo un attimino Vediamo un attimino Poi se esce la penna Però se non mi sbaglio Sì Eccola qui E perfetto così Tra l'altro Io ne ho anche altre Di queste qui E vi consiglio di acquistare queste Perché rispetto alle altre Sono molto più comode E anche ben fatte Allora però Detto questo Proviamolo subito Da questa parte Io ho già scaricato Anche l'applicazione Che si chiama appunto Rocketbook E scriviamo un qualcosa A Caso Così A caso Ci facciamo una piccola parentesi Poi facciamo Olle Così Poi scriviamo like E facciamo un cerchio Molto molto brutto Poi chiudiamo E tecnicamente Anche questo qui Andando su newscan E poi Tappando questa parte In questo modo Ci andrà a leggere Il QR code E poi In maniera molto calma Della mano Non mi trema Vado a fare Così Come devo fare? Allora facciamo così Perfetto La scannerizzazione Ce l'ha fatta Mi ha preso anche Diciamo Questo piccolo dettaglio Appunto perché sta perdendo Un sacco di cose Questo quadernino Non so perché Ma mi ha fatto tutto E come vedete Si vede anche Molto molto bene Vi faccio vedere qui Ma poi vi farò Anche degli clip Poi Per far capire Poi il funzionamento Ma è molto semplice Questo ovviamente È un prodotto Secondo me Ottimo Per quanto riguarda Beh qui poi vi fa scegliere Tra l'altro Sto andando avanti Qui nelle impostazioni Doveva andare a posizionare Questa qui ma noi lo lasciamo Diciamo Così facendo Next È un prodotto Come stavo per dirvi Secondo me Ottimo per un back to school Per un heavy carry Per prendere appunti Quando siete in giro Eccetera eccetera E per appunto Anche Non andare sempre A comprare Quadernini E quadernetti Un po' Dappertutto Comunque non vi fa perdere Quel piacere Della carta Che magari potrebbe Essere interessante Per molti Se mi seguite Sul secondo canale Sicuramente Vi interessa Top Lo proviamo Lo proviamo Mi piace Ve lo consiglio E rispetto agli altri Ovviamente costa anche meno Quindi potrebbe essere Un'ottima soluzione Per cercare di capire Anche se effettivamente Ha senso o meno Per voi Se vi piace Utilizzare questo prodotto Questa tecnologia E così via Quindi Dategli un'occhiata E poi figo anche La possibilità di sceglierlo In diverse colorazioni Quindi veramente super completo Super top Detto questo Arriviamo all'ultimo prodotto Ragazzi se vi dico Virale su TikTok È poco Aveva tipo 240.000 mi piace Una cosa del genere Una cosa pazzesca E quindi ho detto Va bene Inseriamolo comunque Anche se effettivamente Io già ce l'ho E lo utilizzo Da un sacco di tempo Che cos'è? Beh questa è una stampante Che vi permette In poche parole Appunto di stampare Delle foto Belle piccole E compatte Da mettere magari In album Oppure da agganciare Dove volete Perché poi sono Adesivi Quelli O comunque Le cartucce Ecco che ci mettete All'interno Comunque Diciamo la carta Ecco per stampare Che poi tra l'altro Ho acquistato Proprio perché Volevo fare altre prove Ne ho presi due E anche il rapporto E anche il rapporto Da prezzo Non è male Pensando che alla fine Ve ne escono 20 Da questa parte O comunque all'interno Di una confezione Ne fate 20 Quindi un bel po' Ma soprattutto Lo fate con certezza Perché Essendo una stampante E non una fotocamera Istantanea Vuol dire Andate a selezionare E magari ve la modificate Anche la fotografia Come funziona? Beh benissimo E anche in maniera Molto semplice Perché in linea generale Vi basta andare Nell'applicazione Poi ovviamente Selezionare una foto Voi ha consentito Ovviamente tutto quello Che riguarda Diciamo Come si chiama? Tutto quello che riguarda Le foto E anche La posizione Tutto questo Qui state tranquilli E poi tappate Su stampa E Diciamo la stampante Inizierà a Elaborare un attimino L'immagine E poi Subito dopo Inizierà a stampare Appunto il tutto Vi dico già Che ci mette Qualche minuto Infatti adesso sto parlando Ma lei già sta pensando Ma poi per il resto È semplicissima da utilizzare Come detto Essendo comunque Non una fotocamera istantanea Ma una stampante Voi ve la gestite tutto Vi modificate la foto Come volete Tra l'altro ci sono anche Delle piccole modifiche Che potete fare direttamente In app Come per esempio Delle cornici E cose così Ma poi Basta Un singolo tap Sullo stampa E il gioco è fatto Qui adesso sta Procedendo con la stampa Vi faccio vedere qualcosa Ma vi dico che effettivamente Io la utilizzo da un po' Queste per esempio Sono alcune delle foto Che ho stampato A Parigi Con direttamente L'iPhone 11 Pro Pensate da quanto tempo Ce l'ho questo gadget Ma devo dire Che funziona Veramente molto molto bene Non aspettatevi Una fedeltà Dei colori Pazzesca Ma per la grandezza E per il rapporto Da prezzo Secondo me ci sta Molto molto bella E funziona anche molto bene Poi La batteria Dura abbastanza Si ricarica purtroppo Tramite Type-C Cioè tramite micro USB E non tramite Type-C Ma vabbè Ci può stare Però Approvo Secondo me è un gadget Che funziona E che potrebbe avere senso Non lo utilizzerete Tutti i giorni Acquistatela quindi Con questa consapevolezza Però Se vi piace Ancora Stampare le foto E volete fare Un qualcosa abbastanza Così O made Eccetera eccetera Potrebbe essere Un'ottima soluzione Anche perché Vi ripeto E' abbastanza sostenibile La cosa Il rapporto Dal prezzo è buono E poi Le potete anche incollare Proprio su un album Perché appunto Le foto sono adesive Quindi top Detto questo Io lascio tutto Nelle vostre mani Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Un bel like Un bel commento Tutto quello che volete Ci vediamo Sempre qui sul canale Per nuovi video Un bacione e un abbraccio Da giù è tutto Ciao a tutti